E adesso entriamo in un luogo magico. Idee, progettazioni e attività laboratoriali si fondono. Un luogo facilmente raggiungibile, un luogo dove gli artisti trovano un punto di riferimento. Benvenuti al liceo artistico Ernesto Basile. Il pensiero ideativo e quello espressivo trovano l'ideale punto di incontro nel liceo artistico, riuscendo a suscitare relazioni emotive fra colui che progetta e il soggetto che ne fruisce. Il liceo artistico Basile offre ben sei indirizzi di studio, arti figurative con le curvature grafico-pittorico, plastico-pittorico e plastico-scultorio e quattro indirizzi esclusivi per tutta la provincia di Messina, architettura e ambiente, design dei metalli del gioiello e del curallo, design della moda e scenografia. Nel primo biennio gli alunni frequentano i laboratori di orientamento che appunto li orienterà nella successiva scelta del proprio indirizzo di studio fra i sei presenti a scuola. La lingua straniera studiata è l'inglese, potenziata con corsi pomeridiani per l'acquisizione della certificazione Cambridge. La nostra scuola inoltre è ubicata nei pressi della cittadella sportiva universitaria gestita dalla SSV Unimer e i nostri alunni hanno l'opportunità di utilizzarne gli impianti. Diverse sono le attività extracurriculari, tra cui i PON con moduli sportivi, artistici e musicali. Il liceo Basile è una scuola molto inclusiva, infatti proprio grazie anche alla didattica laboratoriale quotidiana si progettano attività mirate alla formazione psicofisica degli studenti. Di prossima istituzione sarà la stanza multisensoriale, secondo la metodologia Snezelen. Il nostro istituto è aperto al territorio anche attraverso i percorsi PCTO, l'ex alternanza scuola lavoro, con diversi enti del territorio. Il Basile negli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i più recenti la progettazione delle divise ATM, il concorso Nicolas Green e il primo premio Storie di Alternanza. Una scuola moderna, accogliente, al passo con i tempi e ben radicata nel territorio. Grazie a tutti.